Ha riaperto questa mattina al pubblico la piscina di Via Roma. Per rispettare le regole anti-contagio la capienza è stata nettamente diminuita rispetto al passato. Nei giorni dal lunedì al venerdì possono infatti entrare solo 200 persone che poi diventano 300 nei weekend. Numeri nettamente inferiori rispetto a quelli del passato quando nei fini settimana entravano in piscina oltre 2000 persone. Proprio per evitare lunghe file all'ingresso è stata resa obbligatoria la prenotazione tramite il sito internet delle CGFS. Il consiglio è quello di prenotarsi con debito anticipo. Abbiamo riaperto oggi, abbiamo fatto con prenotazione proprio per limitare i posti e cercare di mantenere tutte le norme Covid. Quindi anche tutto, lettini, tavolini, tutto quello che è all'interno dell'impianto è in sicurezza. Alla piscina di Via Roma cambiano anche le modalità d'accesso con entrate e uscita separate. Inoltre stop all'uso degli spogliatoi e docce consentite solo negli spazi all'aperto. Nonostante il numero ridotto di accessi comunque l'organico degli addetti alla piscina è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. Come cambia l'attività in piscina con il Covid? Allora per quanto riguarda l'assistente bagnante deve ovviamente sorvegliare come ha sempre fatto i bagnanti. Ci sono delle indicazioni in più per quanto riguarda anche la disinfestazione, quindi cercare di sanificare bene tutti i prodotti tipo sdrai eccetera eccetera. Poi per il resto i bagnanti possono stare tranquilli perché l'attività è la solita, noi si sorveglia sempre tutti. In attesa del boom del fine settimana dove ci sono già prenotazioni, oggi già i primi pratesi hanno approfittato per andare a fare un tuffo nella piscina di Via Roma. Ieri era il primo giorno d'estate, oggi riapre la piscina di Via Roma e ne avete subito approfittato. Sì, non vedevamo l'ora di rientrare in acqua, di prendere un po' il sole, stare un po' in compagnia, alla fine l'estate serve a questo. Una piscina accanto a casa? Sì, poi è comodissima, c'è un sacco di spazio, c'è posto per tutti, ci sono i trampolini, i bar, qualsiasi cosa, quindi molto comoda. È un modo per stare insieme, per stare all'aria aperta e per prendere un po' di sole visto che è un po' che siamo stati chiusi in casa. È un'estate un po' particolare, forse si va meno al mare, è importante avere una piscina accanto a casa. È un punto di ritrovo sicuramente per stare in città all'aria aperta e poter stare veramente un pochettino in libertà e divertirsi.